buongiorno buon pomeriggio popolo rosso nero popolo del badito in attesa del primo allenamento commentiamo un po quello che è successo stamattina e noto già che i personaggi perculatori ora un po li chiamo così del milan perculatori quotidiani del milan hanno già trovato il loro obiettivo milan futuro se anche voi avete questa percezione delle cose mettete un like al video iscrivetevi al canale stiamo arrivando velocemente a 15.000 campanella per le notifiche ma soprattutto se avete il milan nel cuore sempre comunque mettete un like al video allora di tutta la conferenza stampa di oggi o sto vedendo che le reazioni e dei perculatori sono su soprattutto su un aspetto milan futuro milan futuro il fatto che i bra abbia dichiarato che orighi e baluture saranno convocati con il milan futuro anziché con la prima squadra perché non facenti parte del progetto e non piace questo ai perculatori perché vedete i perculatori erano pronti avevano già probabilmente il titolo pronto ma io li avevo già sentiti nei giorni scorsi la punta non arriva perché ci teniamo orighi l'avete sentita anche voi scommetto perché impossibile che non l'abbiate sentita perché l'hanno detto tutti tutti l'hanno detto il milan orighi non sa dove metterlo quindi si tiene orighi e non spende i soldi per la prima punta perché sono dei pezzenti l'avrete sentita tante volte siccome i bra li ha un po spiazzati stamattina dicendo che vanno nel milan futuro e allora i perculatori si che facciamo adesso cosa diciamo cosa diciamo questi hanno detto che la punta arriva che orighi non è parte del progetto che baluture non è parte del progetto cosa diciamo e prendiamo per il culo il milan futuro allora vedete a me sta bene stanno bene le critiche sul mercato le condividerei anche io alcune critiche perché secondo me siamo siamo in ritardo poi tempo non è finito vedremo cosa succederà come dico sempre però che pur di perculare il milan perché va di moda perché fa chic perché fa personaggio pur di perculare il milan si deve anche buttare della negatività su un progetto che invece secondo me è un fiore all'occhiello malgrado lo abbia pensato cardinale curlani ibra e moncada malgrado lo abbiano messo in piedi loro secondo me è un progetto grandissimo è un progetto e che inciderà molto sul futuro del milan molto inciderà ma ma non è che lo dico io basterebbe imparare e guardare cosa sta consentendo di fare in questo mercato la juventus alla juventus la creazione dell'under 23 io direi che sarebbe sufficiente quello però siccome i perculatori pur di non di non dare atto a quello che oramai è il loro nemico principale cardinale ma quindi cardinale dispiace ma rappresenta il milan perché è proprietario del milan e sono pronti a buttare fango anche sul sul milan futuro quindi a prendere per il culo a perculare a fare le battute va bene continuate a fare le battute a perculare io ripeto per capire quanto sia importante per il futuro del milan indipendentemente dalla proprietà che ci sarà e della dirigenza che ci sarà basta vedere quello che sta succedendo in casa juventina però capisco che per voi il discorso perché voi volete vincere su cioè loro i perculatori vogliono vincere subito loro sono convinti che ci fosse un altro proprietario del milan noi avremmo la vittoria dello scudetto assicurata prossimo anno probabilmente anche della champions della coppa italia della supercoppa e io capisco loro hanno vogliono la garanzia stamattina mi scrivevano nei commenti alla live quello che ci vuole no questi non ci danno garanzia di vittoria non ci danno ambizione di vittoria ma dove si compra al supermercato la garanzia di vittoria dove si compra fatemi sapere dove si compra la garanzia di vincere ho visto milan fortissima arrivare settimi ottavi ho visto il milan più forte della storia con una difesa che solo a nominarli dovrebbero tremare i polsi solo la coppia centrale stam nesta dovrebbe far venire far capire che quella è una squadra che era destinata a vincere tutto e ho visto ho visto perdere questa squadra ai rigori contro il liverpool dopo essere stata in vantaggio 3 a 0 quindi fatemi capire a voi chi ve le dà queste garanzie no perché se volete le garanzie marottiane noi non le abbiamo noi noi quelle non le abbiamo quelle garanzie lì noi non le abbiamo ma non le abbiamo indipendentemente da cardinale da furlani la moncada non le quelle proprio noi le abbiamo mi spiace quelle garanzie lì non ci sono e non ci saranno quindi io dico che buttare in perculamento anche un progetto serio interessante a proposito oggi è arrivato un giovane 2005 matteo dutu e io fino a qualche giorno fa sentivo che era praticamente già nell'organico della juventus next gen ed è uno dei difensori più forse il difensore più forte a livello di squadre primavera tant'è che la juve sembrava oramai l'avesse fatto suo e invece questa mattina ha fatto le visite mediche con milan certo adesso bisogna dire che ok stanno facendo tutto il lavoro sul milan futuro ma non fanno nulla per il milan e per la prima squadra questo lo vedremo questo lo vedremo perché ancora non siamo alla fine del calciomercato ancora c'è tempo e quindi se avrete ragione voi a dire che non si farà nulla già su orighi e valutore avete sbagliato no orighi fino a ieri vi dicevate terremo orighi perché non hanno un euro da spendere va bene non avremo i miliardi che hanno gli altri da spendere dall'altra parte del naviglio i milioni di milioni di milioni però insomma sul milan futuro non accetto che ci siano perculate perché vuol dire avere proprio una visione distorta della realtà perché il milan futuro non può che portare benefici guardando in avanti e ad esempio ad esempio piccolo esempio se io durante la stagione ho un problema infortuni e posso attingere da giocatori che sono molto più performanti perché giocano in un campionato molto più performante rispetto alla primavera e stanno facendo già le loro esperienze faccio per dire se dovesse aver bisogno di camarda e un conto è camarda che sale dopo aver giocato sei mesi nella primavera un conto è camarda che sale dopo aver giocato sei mesi in serie c ma dico camarda e potrei dire tutti gli altri senza contare i giovani che stanno arrivando perché a tratti dal milan futuro perché ad esempio madeo dutu e italo rumeno sicuramente se fosse stato se non ci fosse stato il milan futuro sarebbe andato alla juventus next gen perché uscendo dalla primavera i giovani più forti dove vanno vanno nelle under 23 delle squadre e siccome queste under 23 ce l'avevano la juventus e l'atalanta i giovani più forti che uscivano arrivavano magari a prendere una decisione sul loro futuro magari andavano alla juventus o l'atalanta adesso invece vengono anche al milan e questo magari negli anni prossimi ci potrebbe venire comodo per inserire finalmente dei giocatori magari italiani però creati da noi in prima squadra ma tutto questo ai percolatori non interessa perché oramai si sono creati il personaggio oramai si sono creati il personaggio e che fa le battute contro il milan contro cardinale contro i dirigenti contro ibara oramai qualunque cosa dice ibara è una battuta bisogna farci la battuta qualunque cosa dice chiunque ambito milan bisogna fare la battuta se c'è uno che dice il contrario è uno sporco aziendalista che bisogna mettere all'angolo ascoltate quello lì perché è un aziendalista e scusate rifiuto la chiamata e insomma così funziona così funziona e io ripeto sono felice di accetto le critiche assolutamente di chi dice che il mercato dovremo vederlo e bisognerà farlo e che ancora non è stato fatto ma per curare a prescindere e poi addirittura i giovani del milan futuro che piaccia non piaccia il nome sono il nostro futuro quello no quello proprio mi sembra di cattivo gusto ma proprio tanto 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 forza milan sempre